Ciao ragazzi bentornati in Minecraft, dopo tantissime settimane eccomi di nuovo qua, come vedete è stato tutto addobbato per il Natale con il mega albero gigantesco con sottie regali, non vedo l'ora che tutto ciò accada anche in GTA, spero che mettano tutto quanto e oggi andremo a fare un minigioco natalizio ragazzi, avete proprio capito bene e ci dirigiamo verso Christmas Chaos come vedete qua c'è un mega pupazzo di neve, l'unico team ragazzi è soltanto uno, qua siamo i Santa's Helper e il gioco inizia tra un secondo ed eccoci qua, allora noi siamo ok dobbiamo consegnare tutti i regali e Santa ha bisogno del nostro aiuto e noi ragazzi dobbiamo, basta sto casino però, basta picchiarli, va bene noi in pratica dobbiamo aiutare Santa, ovvero Babbo Natale a portare i regali e qui come vedete c'è un muro invisibile perché dobbiamo, perfetto, spaccare di tutti di più guardate adesso dalle pareti che cavolo escono, olè, questi qua si sciottano immediatamente quindi 19,4 minuti rimanenti ragazzi, dobbiamo massacrare come non mai e qui vedete ci sono i minatori che spaccano il muro perché devono spaccare il muro per far passare la slitta di Babbo Natale e i regali e noi dobbiamo proteggere i minatori qui che spaccano tutto quanto, che lavorano al posto nostro dai dai, vi vengo a dare una mano, scrivetemi sotto nei commenti se avete provato questo minigioco cosa ne pensate? occhio, occhio, alle spalle, alle spalle, preso anche qui, anche qui ho vero, ho anche l'arco grandissimo e Santas può passare oh oh, te calmi e il primo livello è stato fatto non so assolutamente cosa ci aspetti più avanti io, ragazzi, ho giocato a questo minigioco prima 3 secondi per vedere che cavolo era ed era arrivato solamente qua quindi da questo punto in poi è tutto nuovo anche per me vedo un mega castello di ghiaccio ok, il magic ok, dobbiamo ricostruire il bridge, il ponte il magic bridge e qui vedo della pietra rossa che si è interrotta da qualche parte, è sicuro fatemi vedere one more switch dove cavolo è lo switch? dai che lo voglio schizzare io lo switch ma dai, hanno fatto tutti gli altri perfetto, il magic è stato fatto se cado giù di qua muoio, raga quindi sono stato utile come non mai in questa parte di mappa ho preso l'unica torre dove non c'era lo switch o lo switch era da altre parti perfetto qua non posso neanche lanciarmi di sotto se no faccio una bruttissima fine via 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 faccio una bruttissima fine e sono morto ed eccoci di nuovo qui con il ponte che è stato ricostruito ragazzi gli abbiamo ridato la potenza necessaria per essere ritornato fra noi cavacca, sti cosi qua non mi uccideranno questa volta maledetti follow me follow me assolutamente stardi via 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 guardate il ponte del potere stiamo andando nel castello che figata ragazzi questo minigioco mi piace veramente tanto e adesso e adesso che cosa accadrà siamo alla challenge 3 di 5 e i present sono 4 su 10 siamo in 11 in vita quindi ci hanno lasciato 5 persone e sono parecchie allora io seguo questi qua che sicuramente sanno quello che devono fare quindi andiamo con i pro occhio open the gate allora andiamo giù di qua via 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 non vedo assolutamente nulla ok poi sono saliti di qua dai è così che pro sono questi qua dalla mia squadra ho trovato questa volta un team excellent no un team che si è incastrato dentro dove cavolo io poi ragazzi non saprò più uscire di qua non so più uscire da questa parte attenzione è qui vicino al pacco nooo è lì cavolo attenzione attenzione ci sono ah no hanno già schiacciato loro qualcosa good now kill it with your sword kill it with your sword mannaggia ma che cavolo qualcuno ha schiacciato il present prima di me wow 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 l'ho visto adesso quello mastardo mastardo maledetto si l'abbiamo distrutto non so cos'è successo ma il present non c'è più là andiamo ad attaccare carca sono caduto da sotto ho l'attacco che questi qua non possono venite 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 massacriamo i pupazzilini no chi dobbiamo ammazzare è il golem si il golem è il golem è bello che è andato il golem è bello che è andato ragazzi attenzione 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 dai dai dov'è 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 non sto capendo assolutamente nulla ma è invincibile dobbiamo buttarlo di sotto da qualche parte dai oh tutti con la spada in diamante non muore oh là all'attacco si è aperto anche il gate qui cos'è tutto parkour è un mega parkour questo si ma ragazzi se siamo in così tanti non capisco nulla difatti dai il prossimo tren è mio non starmi davanti bastardo si ma non starmi no guardali tutti qua non capisco più niente io adesso ce l'ho fatta dai è così ragazzi siamo in vantaggio ma non ci credo non ho schiacciato lo shift per bloccarmi ed eccoci qui anche noi su per il checkpoint enable checkpoint oh no è un frost giant oh qualcuno ce l'ha fatta un frost giant perfetto un gigante di ghiaccio ragazzi sono stato veramente disutile nella maniera più assurda anche in questa challenge vabbè già distrutto perfetto avanti così prima volta che faccio tutto quanto quindi è un po' un casino ragazzi l'ultima challenge e poi porteremo i regali oh queste frecce ah ok questi qua si sparano da solo in bocca ottimo eh non lo so se non lo sai te di chi è questo castello ancora il pumpkin king ragazzi come avevo fatto nella custom map prepare for battle ragazzi chi si ricorda la serie la custom map che avevo fatto su il pumpkin king chi se la ricorda me lo scriva sotto nei commenti raga perché è stata wow epica perfetto sono morto così dai non ci credo con la tnt dai sul più bello sono andato a morire e poi appunto bisogna stare sul yellow ah quello lì muore anche o anche quello lì muore perfetto no che spettacolo spero che la mia squadra ce la faccia ragazzi rimaniamo qua perché voglio assolutamente vedere yellow 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 se no se brucia sono solamente 9 rimasti lì tnt dai è fighissimo sto pezzo no è scappato won the game grandissimi e così ragazzi ci siamo portati a casa questo mini gioco di natale purtroppo sono morto alla fine non ci si può fare assolutamente nulla e siccome minecraft non lo faccio da un po' di tempo voglio fare anche snow fight ed eccoci qua collect snowball allora dobbiamo collezionare il più possibile palle di neve raga fight attenzione io sono il flu tta tta ttta tta tt bastardo altre palle di neve altre palle di neve bastardi gialli venite qua ve l'ho detto sempre io Che i gialli sono quelli Uuuu Varà questo Varà questo Varà questo Mannaggia Mannaggia Prendi 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 le palle Prendi le palle Bastardo Uoooo E quello da sopra Bastardi Via 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 Raga Avanti 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 Spezza il giallo Dai 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 Mannaggia Mannaggia Healthy Healthy Vieni qua Giallo Bastardo Ma la mia squadra Oh No Mi sono bloccato Dai Cos'è successo No ragazzi Non è possibile Perché Devo Mi devono capitare a me Queste cose Tipo qua I gialli Siamo matti Trovarsi nemici Così proprio Direi Anche di no Dai Io seguo lui Andiamo Guardali qua Questi Via via Dietro fronte Dietro fronte Via via Scappa 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 Oh Vuoi morire Però Uh L'ha ucciso No Si L'ho massacrato Non è vero Ancora in vita Managgia da chi Chi mi ha ucciso ragazzi Questo miligioco Questo miligioco Comunque non è che mi fa così tanto impazzire Perché Per uccidere Qualcuno ci vuole veramente Tantissimo tempo O si è in squadra dove Magari si va in due Tre Assieme E si massacrano gli avversari Comunque da me i blu Eravamo in minoranza assoluta Erano tutti contro di noi I gialli Si un po' tutti contro tutti Però i gialli e i verdi Cavolo Facevano un po' team Non lo so ragazzi Scrivetemelo voi sotto nei commenti Comunque spero che il video vi sia piaciuto Qua i blu ragazzi Stanno completamente morendo I gialli hanno un'ottima strategia Veramente un'ottima ragazzi Anche i verdi sono ancora in 5 in vita Vedete che vanno tutti assieme Ci vuole un po' di strategia Quindi spero che appunto Che il video vi sia piaciuto ragazzi Lasciate tantissimi pollicioni Per altri video di minecraft Se sapete altri mili giochi belli Natalizi Scrivetemi sotto nei commenti E io ve li porterò molto E molto volentieri Commentate e condividete In descrizione come al solito Facebook, Instagram Guarda Vistardo è tutto E noi ci vediamo Al prossimo video